Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta e cavolfiore alla napoletana. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta corta, ci mette di cavolfiore, acqua, aglio, olio, carota, pomodorini piccadilli, acciughe, dado vegetale bimbi, prezzemolo, peperoncino, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio, il peperoncino, il prezzemolo e la carota e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità a 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le acciughe, l'olio ed insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità a 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pomodorini e cuocere per 3 minuti, 100 gradi, 100 gradi, velocità soft. Aggiungere il cavolfiore, e cuocere per 15 minuti, 100 gradi, velocità a 1. Aggiungere il dado, il sale, il pepe, l'acqua, riunire sul fondo con la spatola, e proseguire la cottura per 12 minuti, 100 gradi, velocità soft. Aggiungere la pasta. Mescolare con la spatola. e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 13 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La pasta è cotta, impiattare e servire. Pasta e cavolfiore alla napoletana. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!